più veloce se onda ora va più forte dice nuovo così grazie a tutti se tu stai sul terreno agricolo se uno deve in un'azienda comunque è sempre la solita e questi ma è un'azienda più grosso però è un'azienda più grande è un'azienda più grosso 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 è un'azienda più grosso